E' iniziata Juventus Women-Lione, valida per l'andata dei quarti di finale di UEFA Women's Champions League. Era una grande idea per Urtig, qui sbaglia tutto il Lione, occhio a Urtig, Urtig! Il pallone al lato di un niente, va al traversone dentro il colpo di testa, c'è il vantaggio del Lione. Sceglie di entrare dentro il campo, Cascarino dall'altra parte ha una certa libertà Basha che va al cross dentro per Romagnan decisiva. Poi Pedersen mette fuori, Grosso deve completare il disimpegno. Prova a inseguirlo Valentina Cernoia, Carpenter lo mette giù male, arriva Cernoia, trattenuta e poi va giù. Si lamenta Cernoia, calcio di punizione per la Juve e qui tira fuori il cartellino l'arbitro ed è rosso. Cartellino rosso per Carpenter. Lundorf va al cross dall'altra parte dove si libera Valentina Cernoia, il controllo, il destro! La traversa di Cernoia, occasionissima per l'1-1 con una meravigliosa giocata di Cernoia, non è il suo piede. Stavolta si va da Lundorf che tiene in campo il pallone, può crossare adesso il cross, forte in mezzo, Buodi controlla male, palla che resta lì, calcio a Girelli! Caruso vuole riprendersela e ce la fa, bel pallone qui di Arianna Caruso, si allarga Bonansea, palla verso Bonfantini. Bonfantini! Bonfantini! 2-1 sul Lione, le Juventus Women passano in vantaggio! Pallone lungo di Semrant, scappa via Bonansea che adesso ha un po' di campo da attaccare, Bonansea, Bonansea in aria, Bonansea, Buodi blocca! Grazie a tutti!